Lo stabilimento di Verrone produce trasmissioni manuale e automatica per tutte le vetture medie del gruppo FCA. Lo stabilimento di Verrone, assieme agli altri 5 stabilimenti del gruppo FCA e Case New Holland, è uno stabilimento certificato Gold, quindi uno dei massimi livelli raggiunti all'interno internazionale, in campo internazionale. Non solo, lo stabilimento ha avuto anche importanti certificazioni, ad esempio dalla stampa estera tedesca, come quella dell'Automotive Lean Production e Lean & Green Management Award. IFM è il nostro partner per la Condition Based Maintenance. Se prima andavamo in TBM, quindi a tempo, fermando la macchina e facendo analisi elevazionale con i nostri manutentori, con la CBM in real time questo ci permette di non fermare più le macchine, ottimizzare i tempi e pertanto ridurre i guasti e pertanto ridurre anche i costi. Questi sono parametri di processo che ci consentono di mantenere la qualità del nostro prodotto, sicuramente anche aumentando l'efficienza delle nostre prodotti. Oltre al controllo vibrazionale su tutti gli assi interessati della macchina, sempre con strumentazioni IFM, viene controllato il flusso, la temperatura e la pressione dell'ubrio refrigerante, altro fattore molto importante per garantire la qualità di lavorazione. Tutti questi dati, opportunatamente tarati con l'aiuto dei tecnici IFM e costantemente monitorati da noi, fanno in modo che i manutentori riescono ad intervenire in anticipo rispetto alle anomalie che possono generare prodotti particolari non conformi. Lo strumento Smart Observer lo utilizziamo per monitorare il comportamento dei macchinari sui quali è installato. La macchina ci parla realmente e attraverso i segnali di allarme, il superamento di soglie prefissate, ci arrivano delle notifiche e noi interveniamo. Noi abbiamo tendenzialmente esteso questo concetto IFM ad altre linee per noi strategiche. Abbiamo implementato la stessa architettura IFM anche per quello che riguarda l'autonomous maintenance. Implementeremo lo stesso sistema IFM anche per monitoraggio e gestione remota di sistemi tecnici, quali per esempio impianti centralizzati di filtrazione. Sono frutto di una vera e propria partnership fra l'engineering di stabilimento e l'IFM che ci ha supportato in tutte le diverse fasi della progettazione fino all'installazione e dalla messa in servizio dei sistemi stessi. Io sono convinto che l'industria 4.0 e l'evoluzione del world class manufacturing siano fortemente integrate e interconnesse e nel futuro abbiamo intenzione di sviluppare sempre più attivamente questi temi in collaborazione con l'IFM per le nuove sfide che la nostra società si pone. Grazie a tutti!